10 in totale minuti di panico e terrore vissuti ieri sera in A27, l'assalto del commando armato composto da almeno 10 persone con il volto travisato che dopo aver sparato più di una cinquantina di colpi di Mitri e Kalashnikov contro i due portavalori della Civis per un bottino da 3 milioni di euro è fallito grazie a una guardia giurata. Sebbene nel panico e chiuso nel mezzo ha attivato il sistema di sicurezza presente nella cassaforte, si chiama Schiuma Block, ha reso di fatto imbalicabile la cella blindata. Al momento stiamo ricostruendo la dinamica ma è verosimile che siano stati utilizzati in totale almeno 5 mezzi e i malviventi hanno esploso attraverso l'utilizzo di armi pesanti diversi proiettili all'indirizzo dei due furgoni. Quindi il ferimento di una guardia giurata colpita da una gamba da una scheggia del radiatore. Prima del blitz il sequestro di due camion sempre tra treviso sud e nord tir posti di traverso in entrambe le direzioni costringendo prima i camionisti e successivamente anche una decina di automobilisti sotto la minaccia delle armi a consegnare loro le chiavi per mettere i mezzi davanti ai blindati. Commando che a bordo di una Fiat 500 una Porsche Panamera e due SUV dissemina anche le carreggiate di strisce chiodate per bloccare il traffico e assicurarsi la via di fuga sia verso Belluno che verso Venezia. Ed è da qui da questo varco a Olmi di San Biagio detra il quale c'era il furgone bianco lasciato per la fuga che i banditi si sono dileguati dopo aver abbandonato lungo l'autostrada le auto usate per il colpo ed è proprio da qui che questa mattina sono continuate le ricerche degli inquirenti. I malviventi hanno poi scavalcato il guardrail e si sono andati alla fuga attraverso le campagne circostanti. I numeri del blitz raccontano di un furgone fermato a Meolo nella notte con diversi sospettati interrogati quattro feriti lievi sotto shock, due guardie giurate e due donne tra cui una ragazza incinta, dieci tamponamenti, centinaia gli automobilisti rimasti con l'auto in panna in seguito alla foratura delle gomme. Casella autostradale rimasto chiuso per diverse ore. Ora di quattro feriti lievi už ismov-l'ambo Jim ok untersi Assista si